Io sono Antonella Zazzera, sono un'artista che vive in Umbria, in Italia e presento questo lavoro attraverso la Galleria Jean Bouchet di Parigi. Il mio lavoro è un lavoro che nasce in relazione alla natura, è un lavoro che nasce attraverso una mia tecnica unica, particolare che ho inventato intorno agli anni 2000 e realizzo il mio lavoro attraverso l'uso di fili di rame, fili di rame di diverso spessore e colore attraverso cui ottengo delle vibrazioni di luce molto intense. È un lavoro sulla riflessione e sulla rifrazione, è un lavoro in relazione con l'ambiente e molto spesso realizzo le mie sculture appositamente per un luogo. Questo lavoro fu realizzato per un albero dove l'opera curvava sopra la struttura, sopra il ramo e in questa occasione è stata realizzata una struttura che ricorda l'albero dove il lavoro curva. Questo è un lavoro del 2008 che è stato esposto anche in altre occasioni, una mostra l'anno scorso al Parco di Sèvres in Francia. Appunto è un lavoro del 2008 e è un lavoro differente da quello che vado ora a realizzare, nel senso che qui la trama è molto più leggera e la luce entra in maniera più naturale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.